Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso, se avete letto il titolo sapete già di cosa voglio parlare in questo video ovvero del confronto fra Quartararo e Bagnaia per questo titolo MotoGP 2021 perché ovviamente siamo tutti ghesati dalle ultime due vittorie di Pecco, siamo tutti che speriamo insomma di vivere le ultime quattro gare di questo Moto Mondiale al meglio, il più emozionanti possibili ma questa lotta, questa rincorsa, c'è veramente, ha delle speranze Pecco per vincere il Mondiale oppure no? Ecco, cercheremo di capirlo meglio in questo video Prima di iniziare col video ragazzi vi ricordo come sempre che se non lo siete ancora iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché oltre ovviamente a non perdervi tutte le nostre future uscite aiutate veramente tanto il canale a crescere quindi a supportare il nostro lavoro e garantirvi altre uscite quindi assolutamente una cosa da fare e poi ovviamente se vi piace il video o mi piace o una condivisione sono super graditi quindi grazie mille in anticipo se lo farete detto questo torniamo al focus del video quindi questa lotta fra Quartararo e Bagnaia per il titolo e partirei facendo riferimento a un dato quindi ai 48 punti che separano i due piloti 48 punti sono tanti, sono pochi? Dipende perché contestualizzandoli in questo momento del campionato ovvero con 4 gare rimanenti e di conseguenza 100 punti da segnare 48 punti sono tanti, c'è poco da fare ragazzi sono veramente tanti punti e insomma quella che aspetta Bagnaia è una rimonta veramente ardua un compito molto difficile soprattutto perché innanzitutto Quartararo ha dalla sua la sicurezza di avere un bel margine 48 punti sono praticamente due gare di vantaggio quasi che significa che se anche nelle prossime due gare dovesse stendersi, dovesse fare zero punti in generale Bagnaia sarebbe costretto a vincerle entrambe per stargli davanti soltanto di due punti poi quindi con ancora tutto da giocarsi quindi tanta sicurezza da parte di Quartararo per questo punto di vista invece in una situazione normale quindi in tutti e due i piloti che arrivano al traguardo Bagnaia è costretto sicuramente arrivare sempre sul podio e in generale vincere più gare possibile mentre deve anche avere tanta distanza da Quartararo stiamo parlando di una differenza a media, diciamo di media a gara di 12 punti ogni gara ma 12 punti sono tante posizioni di svantaggio che deve avere Quartararo nei confronti di Bagnaia se a tutto questo aggiungiamo che Quartararo è il pilota che più di tutti ha dimostrato di essere costante e forte insomma e veloce in questo campionato 2021 capiamo che in realtà stiamo parlando di qualcosa di veramente ostico ora quindi perché si fanno questi ragionamenti eccetera allora innanzitutto andiamo a capire come siamo arrivati a questi 48 punti di svantaggio e per fare questo possiamo andare a vedere l'andamento complessivo delle loro due stagioni notiamo quindi subito che nelle prime 5 gare dell'anno quindi fino al Gran Primo di Francia i risultati dei due piloti sono stati tutto sommato allineabili nonostante Quartararo desse un po' l'idea di essere superiore in quanto aveva vinto due gare ma siamo comunque arrivati alla vigilia del Gran Primo d'Italia con il francese in vantaggio di un solo punto sull'italiano quello però quello del Gran Primo d'Italia è stato il momento cruciale della stagione in quanto si trattava della pista in cui si sperava in una zampata di Bagnaia in quanto pista di casa, pista Ducati che ha sempre visto la moto italiana andare molto forte negli anni recenti ma invece dopo aver preso il comando della gara in due giri Bagnaia è caduto e Quartararo per peggiorare la sua situazione ha vinto andando a creare quel piccolo solco che poi nella parte centrale della stagione Bagnaia non è più riuscito a ricucire se andiamo a vedere il grafico infatti vediamo come Quartararo abbia avuto come unico basso la gara di Catalunia in cui si è aperta la tuta e nonostante questo Bagnaia gli è arrivato dietro dopodiché è continuato ad andare sul podio mentre Bagnaia non è riuscito a ripetere prestazioni del genere quindi siamo arrivati alla pausa estiva con un Quartararo in vantaggio di 47 punti adesso sono 48 cosa significa? che dalla pausa estiva Bagnaia e Quartararo hanno sostanzialmente mantenuto un livello molto alto entrambi è vero che ci sono state gare assurde come quella austriaca o gare in cui Bagnaia ha sofferto molto per le gomme come a Silverson però alla fine della fiera hanno realizzato 78 punti Quartararo e 77 Bagnaia quindi addirittura scopriamo che nonostante Bagnaia stia vivendo un momento esaltante diciamo dal rientro delle vacanze estive non è riuscito comunque a surclassare Quartararo che continua ad avere un ritmo devastante per lui ma anche ovviamente per tutti gli altri avversari quindi questo cosa significa? che in questo momento Bagnaia è l'unico che riesca a mantenersi sul livello di Quartararo ma mantenersi sul livello purtroppo non ti permette di riuscire quel gap che paradossalmente è aumentato di un punto dalla pausa estiva ora perché siamo tutti gasati di nuovo? questa è la domanda perché continuiamo a sperare in un Bagnaia che può farcela contro Quartararo? ovviamente perché ha vinto le ultime due gare e le ha vinte in maniera magistrale quindi prima lottando con Marquez e poi resistendo al ritorno di Quartararo ora realisticamente penso sarà molto difficile per Bagnaia penso anche che sarà necessario almeno 1-0 da parte di Quartararo che statisticamente potrebbe avvenire visto che non ne ha ancora uno a referto in questo 2021 ma se le cose stanno così è perché Quartararo si è dimostrato come il pilota più consistente dell'anno e soprattutto secondo me gare come quella di Misano saranno ricordate come la pietra miliare del suo campionato perché certificano il suo atteggiamento di voler trarre sempre il massimo dalle situazioni e sono poi gli atteggiamenti che ti fanno vincere i titoli cioè Quartararo a Misano poteva tranquillamente accontentarsi di un terzo posto anche di un quarto insomma portare a casa più punti possibile nella maniera più comoda possibile quindi senza rischiare troppo e insomma perdere pochi punti da Bagnaia che cosa ha fatto invece? Ha lottato con le unghie e con i denti ha recuperato posizioni e è arrivato a ridosso di Bagnaia e sostanzialmente con solo i 5 punti persi ha reso vana l'incredibile gara di Pecco ha reso vana i suoi sforzi per cercare di recuperare il più punti possibile sull'avversario quindi le prossime gare per Bagnaia saranno fondamentali lui ce la metterà sicuramente tutta al vantaggio di poter attaccare Vasta mentre Quartararo comunque dovrà in qualche modo difendersi però siamo comunque di fronte a un pilota che non sembra proprio volerne sapere di lasciarsi scappare il titolo quest'anno così come ha fatto l'anno scorso a differenza di come ha fatto l'anno scorso quindi il desiderio che possiamo avere da tifosi italiani è che comunque le cose vadano per il verso migliore a Bagnaia e che riesca comunque in qualche modo a superarlo e a vincere il titolo ma più in generale e più realisticamente da appassionati di MotoGP speriamo che Bagnaia continui con questo ritmo sensazionale che Quartararo continui a essere un avversario ostico e che si mantenga un campionato aperto il più a lungo possibile magari fino a Valencia cioè volete mettere un campionato che è ancora aperto all'ultima gara per quanto possa essere già indirizzato io mi ricordo il 2017 con un dovizioso tanto tanto in svantaggio nei confronti di Marquez però tecnicamente era ancora tutto possibile quindi la gara di Valencia l'abbiamo tutta vissuta con grande suspense perciò veramente mi auguro che le cose vadano in questo modo che avremo quattro gare fantastiche, belle calde, belle agguerrite e poi ovviamente il campionato negli ultimi anni ci ha insegnato che tutto è possibile che avremo tante mini vaganti la prima sarà sicuramente Marquez-Austin quindi non vedo l'ora che sia domenica per iniziare questo filotto di quarte gare di quattro gare che ci porteranno al finale di stagione perciò questo è quello che penso del confronto tra Bagnaia e Quartararo fatemi sapere la vostra magari pensate che Fabio non abbia rivali e da qui fino a fine anno schiaccerà tutti quanti non è comunque un'ipotesi da scartare aspetto quindi le vostre opinioni qua sotto nei commenti vi ricordo come ultima cosa che io e Ale siamo sempre online dopo le gare di domenica alle 21.30 quindi vi aspettiamo domenica sera per parlare con voi di come saranno andate le cose ad Austin mentre per il prossimo video ci vediamo sempre qui su YouTube ciao 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 ciao